Una persona per com'è veramente sul fatto che ne sentiamo bisogno. Ciao Fabio! Oddio Pupo! Come stai? Ciao! Che bello incontrarti sul secco! Mi dai un bacio, no? 600 km l'ho fatto! Ho bisogno di una mano, Fabio! In diretta su Radio DJ c'è Pupo! Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti! In diretta dai microfoni di Radio DJ spiego a Fabio Volo la mia missione. Le montagne io lo so! C'è Pupo su Radio DJ! Siamo su Radio DJ con Fabio Volo! In diretta, questa canzone è un triunfo!